Presidente, oggi una visita anche alla Pigna dove c'è un possibile impegno della regione per sbloccare una situazione di accesso al credito? Qui siamo di fronte ad una situazione che può non essere definita paradossale, quindi l'intervento della regione è assolutamente necessario. È un'azienda in crescita, sono aumentati i dipendenti fino ad arrivare al 95, è un'azienda che fa anche un fatturato in crescita ed è un'azienda che si è insediata nel nostro territorio mettendo qui anche la sede legale. Questo per noi è estremamente vantaggioso ed importante al punto che cercheremo di dare una mano per quanto riguarda queste difficoltà di accesso al credito di cui ci ha parlato l'azienda. È un'azienda sana però e noi vogliamo che non solo mantenga qui la propria produzione ma possa addirittura crescere.